venga silva venga grazie grazie no meglio di nome meglio di no meglio di no bene attenzione grazie grazie silvan cosa prevede per il 96 nulla nulla grazie grazie buonasera buonasera sa che ho fatto la lievitazione a capelli ha fatto si faccia i cazzi suoi bene guardi per favore silva usi un linguaggio devo dire bene ha ragione mi scusi la tratto sempre male sono molto contento di essere qua in questo special del 6 del 6 gennaio ma non è il 6 gennaio a lei non è la befana non è la befana scusi silvano non applausi su queste cose che riguardano noi senta dove che ha fatto spettacoli particolari io ho fatto una festa proprio dentro lo stabilimento fiat e contenuti dipendenti fiat ed ho fatto un miracolo è avvenuto un miracolo alla fia alla fiat proprio dentro davanti ai gianni agnelli che ha fatto di miracolo così sconvolgente sono riuscito a mettere in moto una duna mai successo mai successo grazie sono chi grazie a lei grazie allora partiamo subito con un gioco nel gioco nel gioco di prostiti di prestidigitazione allora chiamando la mia valletta ma chiaro porti a qui le carte marusca ma possibile che cada sempre ma lei ma ti sei fatta male un attimo un attimo ho perso la pazienza bene attenzione anche noi bene allora le carte scelga una carta attenzione scusa ma scusa un attimo ma questa è carta d'apparato infatti siamo indecisi se mettere questa in bagno oppure questa in salotto vero gioco di carte velocissimo velocissimo silenzio tip it up bene attenzione scelga una carta scelga una carta questa faccio vedere allora vedere attenzione adesso rimettila nel mazzo si concentri non ha bisogno di adesso la deve riprendere concetti centri si concentri si concentri concentri a comando si concentri non è quella si concentri ho detto si concentri ma io mi devo concentrare certo non si concentri e no ma la carta non è neanche questa non è neanche questa che figure stiamo l'ultima ti do concentrati 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 io ma concentrati concentrerò ma non è neanche allora concentrati non si può non si può assolutamente marusca raccogli le carte grazie non si concentra non si concentra voglio vedere qualcosa cosa canti andiamo a mettere il grano marusca non sa perché sa perché canta questa canzone perché fa maria carta bene attenzione molto più è palestitizzata vogliamo qualcosa di sconvolgente qualcosa di sconvolgente non è l'ora di mangiare adesso marusca ok mangiamo dopo non preoccuparti ferma ferma bene attenzione allora ho capito che ha fame marusca maestro faccia il numero su forza attenzione marusca vai a prendere la cassetta degli attrezzi per fare questo grandissimo gioco io prenderò un pezzo di ferro hai fame va bene dopo andate a mangiare scusate ma lo sapete che andiamo dopo mago silva nel sempre grazie bene attenzione vi stupirò allora con un pezzo di ferro io adesso lo piegherò altro che casella bene attenzione dammi una chiave inglese no questa no più più arruginita voglio prendere il tetano cos'è una chiave inglese molto carina molto molto brava dammi questa questa bella ruggine completamente piena di ruggine 30 ruggine attenzione allora ho capito che ha fame marusca dopo mangi e come la forza del pensiero ma basta non si può non si può perché 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 ma io l'avevo detto io scusa ma io l'avevo ho detto nelle prove ho avuto quella più piccola mangiare non la voglio più vedere allora vuoi sapere perché hai mangiato quella non è possibile per pubblicità pubblicità perché che cosa stupire perché ci sono andata un video che non mi pare quindi ci sono andato un po' così